Oggi chi ha euro su Binance può fare affari perché questa è la coppia di scambio con USDT, sta succedendo qualcosa di incredibile, c'è gente che vende USDT per comprare euro a prezzo enorme, elevatissimo, poi il prezzo scende, quindi se qualcuno ha euro da vendere ad alto prezzo, poi dopo può ricomprarli a bassissimo prezzo.